Presentato presso il comune di Salerno, Salerno Live Salerno Suona, iniziativa organizzata dall'associazione The Art che si svolgerà a partire dal 7 marzo dalle ore 21 e 30 a mezzanotte presso alcuni locali del centro cittadino. L'iniziativa si terrà tutti i giovedì e prevede una serie di concerti, uno per ogni locale aderente al progetto. Un'occasione per riportare la musica nella movida e per dare spazio alla creatività degli artisti salernitani. Sono favorevolmente convinto che responsabilizzando i gestori dei locali e dando loro delle regole certe sicuramente si poteva fare rete. Quindi per me è un plauso a chi ha pensato come The Art Progetti di mettere in rete 10 attività sulla direttrice di Via Roma e del centro, mettere insieme intrattenimento musicale che si fa il giovedì, di dare una proposta culturale importante. Questo è il futuro, Marchio Salerno Sola, a disposizione dei gestori di locali per una programmazione musicale per non solo i concittadini, ma i tanti turisti che affolleranno la nostra città, compreso i croceristi.